dai Mirelio trovati fuori quella che vuoi dai io te la assegno queste queste vedi che già mi guardano male pure questo è il carro che do da mangiare che uso per fare i carri silokin gran carro a mio parere pure queste queste sono pronte stanotte carichiamo 45 di queste queste testone se vuoi guarda ti tengo queste no perché sono già vendute ti tengo queste te ne segni due la prossima volta che vengo con i skoda le metto sulla capota sai quelli che mi vedono mi dice questo quale matto dialoga ti saluto Mirelio sta bene ciao mi faccio sentire stasera se trovo la scatola